No, è una gara e come ogni gara, come dire, se c'è un vincitore c'è anche un perdente, però a volte influire, come dire, influire quello che può essere il pensiero di una comunità non sempre va in un certo senso, no? Non so con che prospettive si appresta a governare questo paese, però il tempo ci dirà cosa farà. Noi abbiamo presentato un bel programma, un programma fatto da chi vive di partita IVA da tanti anni, un programma reale, di un paese reale, per non farci sorprendere più. Evidentemente i cittadini di Guglionesi non l'hanno percepito bene questo messaggio e si sono affidati magari a chi eccelle in feste ed altro, però la vita è fatta di cose concrete, non è fatta di cose stupide. Probabilmente però evidentemente i cittadini hanno scelto così e va bene così. La mia opposizione che mi ha sempre contraddistinto un'opposizione costruttiva, però è chiaro che è un'opposizione di controllo affinché le cose vadano bene. Poi io sono sempre disponibile per il paese, per il paese. Quindi evidentemente nel loro immaginario poi se sarà costruttivo si inventeranno che sarà nuovamente la stampella per il paese. Conoscendo l'altra parte ho i miei dubbi e lo dico, l'ho sempre detto, l'ho sostenuto e lo ribadisco. Ho dei grossi dubbi che possano lavorare per il paese se non per altro.